Allora, attenzione, rieccoci ben ritrovati, questa è una notizia dell'ultima ora che ci fa cambiare la scaletta in corsa, perché davvero, insomma, merita quantomeno un approfondimento. Io, caro Paolo, leggo, fonte SPN, quindi canale americano, UEFA vuole Milan e Juve fuori dalle coppe. Esatto, secondo l'SPN, Juve, Milan, Reale e Barcellona rischiano due anni fuori dalle coppe. Allora, vi vado a leggere un po' testuale la notizia che c'è appena arrivata in redazione. Allora, secondo il Network, l'UEFA avrebbe già un accordo con sette club ed è vicino all'accordo con l'Inter, mentre le altre quattro, che vi abbiamo appena citato, Juve, Milan, Reale e Barcellona, non avrebbero fatto passi indietro sul progetto Superlega. Quindi avrebbe l'accordo con sette delle otto che facevano parte dello Superlega. Esatto, e l'Inter ci siamo quasi con l'accordo, mentre Milan, Juve, Reale e Barcellona non avrebbero fatto passi indietro. Da qui la decisione è di usare il pugno duro. Allora, la UEFA sta pensando di combinare a queste società l'esclusione delle coppe europee per due anni, società che non hanno appunto formalizzato l'addio alla Superlega. Nei ultimi decigioni la UEFA ha avuto contatti con tutte le dodici società che avevano varato il progetto, ha raggiunto un'intesa con Arsenal, Tético Madrid, Chelsea, Liverpool City, United e Tottenham, quasi con l'Inter, con queste quattro no, queste quattro non avrebbero fatto passi indietro, secondo ESPN, che dice che la UEFA potrebbe adottare sanzioni in base all'articolo 51 degli statuti che impedisce l'adesione a organismi senza il via libero della Confederazione continentale. Le società invece farebbero affidamento sui documenti stilati all'inizio del progetto con la richiesta di autorizzazione per l'organizzazione della competizione e di un riconoscimento da parte delle autorità calcistiche internazionali. Inoltre, eventuali azioni disciplinari dell'UEFA, sempre secondo ESPN, potrebbero entrare in collisione con la sentenza preliminare con cui il Tribunale di Madrid esclude per UEFA e FIFA la possibilità di bloccare il lancio della Superlega. Insomma, si va verso un procedimento magari anche per vie legali, però la notizia di base è questa. ESPN dice che la UEFA sta pensando all'esclusione di Juve, Mina, Reale e Barça dalle Coppe Europee, in quanto non hanno ancora abbandonato del tutto il progetto Superlega. Beh, Furio sarebbe... In questo caso domani l'abbandonano e ci mettono una pietra sopra o no? Non lo so, Furio, perché se loro sono convinte di poterlo fare, non abbandonano, però resta il fatto che se ti trovi una mazzata del genere, due anni fuori dalle coppe, poi vai in tribunale a vedere chi aveva ragione, però intanto la sanzione te la danno. Ma la cosa che mi fa impazzire, sai che io guardo sempre al pratico, è che la famosa tabella di Der Spiegel non è mai stata smentita da nessuno. Cioè che Barcellona e Real Madrid si erano presi la fetta più grossa, 350 milioni di euro ciascuna. La Juventus a 200, dopo due anni, sarebbe arrivata a 350. Inter e Milan a 100 milioni. L'Inter si è sfilata e va bene. Ma questo Milan, se fosse così, è vero che ormai abbiamo fatto l'abitudine a non fare più la Champions, però insomma sarebbe, io non voglio crederci, spero che così non sia, però sarebbe l'ennesimo smacco, l'ennesima smagliatura di una società che insomma non funziona. Non funziona, a partire dal rinnovo di Donna Rumma, di quando è arrivato. è un qualcosa di epocale, cioè io non ricordo Danilo, a parte quella... Milan è stato stromesso nella storia di Marsiglia. Dopo la Coppa dei Lampioni, famosa, la figuraccia di Marsiglia. Ci fu poi la squalifica dei club inglesi dopo l'Eisel, ma lì non c'entrava nulla il discorso sportivo. Era il minimo. Qui sarebbe una cosa epocale. Real, Barcellona, Juventus e Milan fuori per due anni, a prescindere dei risultati sportivi. Epocale è l'aggettivo giusto. Ma lo può fare, Luefa? Sarebbe giusto una cosa del genere, secondo te? Il regolamento parla chiaro. Sì, ma qui, come un libro stampato, ci ha letto Paolone il... Beh, ci ha anche letto che un tribunale a Madrid ha detto no, è legittimo che dei club privati possano far nascere un progetto privato. Finirà in una rissa da tribunale e vediamo cosa succederà. Però lo scenario è inquietante. È molto inquietante. Scusami, abbi pazienza. Un tribunale della giustizia... Spagnola. Spagnola. Tu sai benissimo che nello sport, soprattutto nel calcio, quando tu diventi un tesserato, di conseguenza ti affidi solo ed esclusivamente per le questioni derivanti al calcio, alla giustizia sportiva. Vale, per quanto riguarda la nostra serie A, la fede del calcio, eccetera, a maggior ragione vale con quella che... non sarebbe la prima volta che si esce dalla giustizia sportiva e si va in altre sedi. Credo, perché di fronte a una cosa del genere i club falliscono, ragazzi. C'è una tempistica per cui quello che se l'UEFA o la Federcalcio, insomma, quando ci sono delle decisioni, i calendari li fanno con la Federcalcio per dire in Italia e con l'UEFA per parlare di Europa. Ugo, sei rimasto colpito da questa voce perché attenzione non è una certezza, però... Però è una dimostrazione del fatto del... Cioè, secondo me loro hanno sbagliato prima cercando di fare tutto per i fatti loro. Sto parlando delle squadre più importanti che hanno deciso di fondare questa Superlega, capito? Quando invece c'è il meccanismo dell'UEFA che oramai è consacrato da anni e anni e anni loro invece hanno voluto cercare cercando di dimostrare una certa potenza economica e morale e invece non è così tant'è vero. Io non ho mai visto ritrattare una proposta in 24 ore come è successo con questa stagione. Vuol dire che è arrivato qualcuno e ha detto ma cosa cacchio state facendo? Questa userò un termine giornalistico questa è una cosa da ribattuta alle 11 e mezza di sera è una cosa da ribattuta è una notizia molto grossa titolo 9 colonne a chiudere però questo discorso ovviamente se poi arrivano ulteriori notizie noi siamo qui per darvele volevi aggiungere Furio? volevo aggiungere che in realtà sicuramente prima o poi si arriverà è tutto è tutto lì probabilmente probabilmente però i club è tanto tempo che ci pensano addirittura Berlusconi negli anni 80 già ci ragionava ma sì battute da fare qui a Milano prima del lockdown l'ultima stagione regolare Milano e Inter insieme hanno garantito solo ai botteghini 100 milioni di euro 60 l'Inter e 40 il Milan a questa cifra bisogna bisogna aggiungere tutto quello che ci sta intorno dalle bancarelle agli sponsor alle trasferte l'indotto se raddoppiamo secondo me non facciamo un discorso così strampalato quindi Milano con Milano e Inter possono garantire al calcio alle società e quindi al calcio perché poi Milano e Inter questi soldi li spendono 200 milioni di euro non dico però questo è un dato di fatto a maggior ragione se a maggior ragione l'Inter ha fatto il record assoluto di San Siro 6 milioni e 8 contro il Barcellona in un girone di qualificazione di Champions non era la finale 6 milioni e 8 il terzo anello costava 100 euro e la gente fa bene fa male comunque è andata cioè bisogna fare anche questi calcoli io arrivo